Cos'è da Alessandro, Presidente dell'Associazione Laureati della LUIS qui a Bruxelles. A che serve la vostra associazione? Guardi, di associazioni ce ne sono tante. Noi quando siamo nati come associazione ci siamo dati una missione, una vision, che era molto chiara. Era dare un'idea dell'Italia che non fosse basata sulla appartenenza ma sul merito e sulla competenza. Secondo me tanti italiani, non solo gli ex ragazzi dell'Associazione Laureati di LUIS, stanno facendo un gran lavoro da questo punto di vista. Cito i ragazzi di Rena per esempio, della Rete per l'Eccellenza Nazionale, come gli alumni Bocconi. Ci sono tanti italiani molto capaci che si fanno valere senza ricorrere alla spintarella o all'aiuto ma semplicemente basandosi su quello che sanno fare. E noi vogliamo dare una mano in questo senso. Lo fate organizzando incontri con le istituzioni europee, organizzando attività di vario tipo ma senza perdere di vista un aspetto di sodalizio, di amicizia. Assolutamente. Le due cose come insegnano, secondo me, quelli che gli inglesi chiamano gli Old Boys Network, possono funzionare benissimo. Si può essere amici, si può bere una birra insieme, si può lavorare insieme, però sempre senza dimenticare l'elemento professionale, quindi tenere le giuste distanze e riuscire a combinare le due cose senza mischiare i piani. Voglio dire che se vuole la sfida è un po' difficile per noi italiani ogni tanto. Senta, secondo lei che cosa Bruxelles potrebbe invidiare alla LUIS e cosa la LUIS può invidiare a Bruxelles? Bruxelles alla LUIS ha questo elemento che secondo me persone come Celli, come Lo Storto, il nuovo gruppo dirigente della LUIS, per non parlare del rettore Gidi, stanno portando questo esempio di grande artigianalità italiana. Non l'industrialità, ma l'artigianalità, però con la passione. Se lei va proprio negli uffici di Pierluigi Celli è facile che ci trovi un ragazzo che sta studiando, e quindi cosa che secondo me è un po' più rara nel nord Europa. Quello che invece la LUIS, ma l'Italia in generale, deve imparare a Bruxelles, è la capacità di fare sistema, di darsi delle regole, di seguirle senza metterle sempre costantemente in discussione, che si vuole un po' il problema che abbiamo noi italiani ogni tanto. Un'ultima domanda riguarda la vostra prossima iniziativa, che riguarda queste provvedimenti a favore del controesodo, cioè per far tornare indietro i cervelli che sono andati via, se ho capito bene. Io per tanti anni sono stato, se non un cervello sicuramente in fuga, nel senso che con il mio lavoro, avendo lavorato per aziende come la Coca-Cola, il gruppo Mars, la Goodyear, ho vissuto in 5 paesi e non ho lavorato in più di 48, quindi mi sono mosso tanto come italiano e come personale. Per me quello è un falso problema, se vuole, nel senso che più che di ritorno dei cervelli, bisognerebbe parlare di un bilancio dei cervelli in entrata e in uscita, perché solo se facciamo rientrare i cervelli in Italia non facciamo nemmeno bene a quei cervelli stessi che poi contribuiscono a fertilizzare così. Dobbiamo avere un bilancio netto, se vuole positivo. Questa è la vera sfida. Comunque è già un grandissimo passo avanti perché si stanno rendendo più facili le cose per chi spesso l'Italia se la porta nel cuore, è partito perché non aveva alternativa e se avesse un'occasione buona per tornare potrebbe tornare. In realtà, secondo me, bisogna lavorare anche su un altro elemento che è questo. Non è solo l'incentivo al ritorno ma anche le condizioni perché poi le persone restino. Se l'Italia non ha il coraggio di rompere certi meccanismi del potere, sto pensando all'università, ma non è solo l'università, sarà difficile che queste persone poi restino veramente una volta ritornate perché sono abituate a una libertà, a un modo di gestire che sia la ricerca, che sia la vita in azienda, eccetera, eccetera. Un po' difficile. Io nelle mie due esperienze, uniche due esperienze con aziende italiane, pure avendole fatte a un certo livello, mi sono reso conto che da un punto di vista culturale la sfida era grossa perché mi trovo delle persone che pensavano con dei modelli molto vecchi, molto gerarchi, molto legati a un'idea di potere che forse le aziende moderne non hanno più. Molti di voi sono meridionali di origine, è una scommessa più difficile? Guardi, sì e no, nel senso che meridionali perché la LUIS per tanti anni ha attinto a un bacino centro-meridionale anche se da qualche anno sta avendo un grosso successo anche al nord Italia. No, io trovo che una, chiamiamola tra virgolette, l'elite meridionale è stata sempre capace di esprimere persone straordinarie di talento. Il problema è stato come riuscire a fare ancora una volta sistema di queste capacità che avevamo e che invece spesso tenevamo per noi stessi o mettevamo solo al servizio dell'individuo o della famiglia, diciamo così, ma non della collettività. Grazie.